Ci siamo, mancano pochissimi minuti e poi ci sarà il pitch regionale qui a Napoli. Disputerete questo pitch davanti a una giuria di esperti. Come vi sentite ragazze? Scusi, agitate anche. Com'è stato per voi e cosa ha rappresentato per voi fino ad oggi il progetto WIT? Per me è stata una cosa molto importante. A parte che mi ha insegnato con l'informatica, perché non serve proprio l'informatica, mi sono messa in gioco, quindi è stato bello anche solo mettersi in gioco e lavorare insieme. Perfetto, anche condividere le idee, le nostre idee, questo è la fine. Allora, bocca al lupo. Grazie, crepi.